miriam benvenuta a esso l'italia notizie e antenna abruzzi a radio d'autore grazie mille giuseppe grazie dell'invito grazie della trasmissione grazie della tua pazienza ma sì certo ci vuole parsimonia a capire ma c'è molto fascino in molta curiosità dal punto di vista dell'interesse sono prettamente calato in questa esperienza che mi sta prendendo proprio proprio dal punto di vista informativo dal punto di vista anche dell'argomento della è molto 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 intenso bene miriam prima di trattare l'argomento mi piacerebbe capire prima io e poi chi ci ascolterà ora e successivamente l'importante momento che la comunità ebraica sta vivendo da otto giorni con questo momento spirituale molto molto alto ce ne vuoi parlare la festa delle capanne che è l'unione di più feste che ancora non è terminato inizia con rosso sanna che è il nuovo anno e noi siamo nell'anno 5.783 dalla creazione attualmente il nuovo anno è il giorno della creazione dell'uomo di Adamo allora è per tutti dieci giorni dopo viene la festa della espiazione che si chiama Yom Kippur allora le cose le cose nell'ebreismo sono tutti molto legati uno all'altro il nuovo anno è il momento quando Dio decide se tu vai a vivere e se l'anno scorso ti sei guadagnato la vita il giorno di Yom Kippur che è dieci giorni dopo nove giorni dopo il nuovo anno festa della espiazione giorno della espiazione non è festa digiuno 26 ore e ogni ebreo se è affiliato non è affiliato se è osservante non è osservante Yom Kippur è sacro perché tutti sanno che è il giorno di decisione e allora si fa dopo Yom Kippur immediatamente inizia la festa delle capanne che si chiama Sukkot praticamente si rivive i 40 anni dell'essodo dell'Egitto che Dio ci ha messo nel deserto per insegnarci dentro le capanne e noi per sette giorni otto giorni rimaniamo vita dentro la capanna dalla mattina alla sera io normalmente sarò adesso fuori ma sia che c'è freddo e c'è pioggia incredibile c'era pioggia anche ieri non potevo uscire fuori e sono dentro ma 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 le feste finiscono ehm martedì prossimo con il sigillo sul verdetto quello vuol dire che durante questa settimana ancora hai la possibilità di fare qualche cosa qualche buona attività qualche mitzvah per cambiare il verretto ma ma martedì sera le porte sono chiuse e quello che succederà per il prossimo anno è sigiliato e scritto ed è ed è ed è ed è bene questo questo aspetto molto interessante colpisce perché ci fa ci rende partecipi a ognuno di noi a capire quello che io faccio domani un un shabbat sì un venerdì sera inizia shabbat il giorno del riposo tramonto e tramonto plus un'ora fino a sabato sera e persone vengono da tutte le parti dentro la mia capanna per festeggiare con me su questo sabato questo sabato sera domani 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 venerdì sera domani venerdì venerdì sera è una cosa che faccio da quattro anni è una cosa che faccio da quattro anni a 30 metri dal parco archeoderi parco archeologico archeoderi che è la casa mettiamo così che era una sinagoga del quattrocento adesso è un sito archeologico ma questo è il punto dove io ho ritrovato ho ritrovato un pezzo della mia anima di un'altra vita e questo mi ha portato qui e allora per me Bova Marina San Pasquale dove sono e io vengo qui per le feste perché per me è il posto più sacro che io conosco non ho scritto il libro buon Sukkot 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 eccoci qua Miriam ritorniamo a quello che è il nostro percorso informativo informativo sull'approccio alla voce umana siamo all'undicesima puntata e stasera da stasera diciamo che entriamo un po' nel vivo no? di questa di questa informazione dal mio punto di vista mentre dal tuo è una missione molto importante non ti nascondo che mi stai tirando dentro a questa missione quindi ormai ne faccio parte in un certo senso stasera parliamo come l'hai definito tu siccome lo sto ascoltando pure io mi inizia a piacere pure a me parliamo del più grande cantante della musica classica italiana Enrico Caruso un napoletano doc il quale ha tanto da insegnare tanto ha lasciato Miriam chi era Enrico Caruso? due breve notizie e poi entriamo in quello che è l'aspetto della trasmissione il suo segreto allora musica musica classica è una cosa lirica è un'altra cosa e quando si parla di lirica si parla del più alto livello dell'arte voce vocale Enrico Caruso è un un mondo a se stesso non c'è non c'era e non ci sarà un'altra creazione perfezione come la voce di Enrico Caruso la perfezione vocale la perfezione tecnica la serietà dell'arte dell'essere umano del cantante anche se anche se lui era un uomo del mondo non era il piccolo napoletano era un uomo del mondo ma dedicato al al cento per cento al suo strumento alla sua arte alla lirica alla canzone al teatro a quello che è l'essenza di quello che è la voce Caruso è la voce e tutto che viene dopo di lui si deve confrontare con lui è il migliore quindi diciamo che è il bel canto è il bel canto è il bel canto è il bel canto come nessuno no 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 c'è una irarchia ok mia la irarchia mia personale e mi metto mi metto come sempre contro tutto il mondo allora c'è Caruso dopo c'è Benjamino Gigli e dopo c'è Jussi Bjerling che non è italiano che è svedese ma Caruso ha detto di Bjerling che lui è l'unico cantante che può mettere il suo costume di Rigoletto sul suo corpo io ho portato dall'America il costume di Caruso a Stoccolma per il anniversario della morte di Jussi Bjerling e il costume di Caruso era sul mio corpo l'ho messo io sul mio corpo e dopo ho dormito nella casa di Bjerling nel suo cuscino e quello che è entrato a me di tutte queste cose che Dio mi sta dando per portarmi dove devo andare erano cose che hanno cambiato il percorso totalmente il percorso della mia vita si vede come vivi questo anche a parlarne è molto evidente la tua quasi personificazione con la figura di Caruso come punto di riferimento in questo caso io ho potuto come dire informarmi leggendo qualche passo del tuo libro e lì ho trovato una persona che ha sempre avuto uno scopo quello di continuare a imparare cioè era una era la tipica persona umile che riusciva a imparare continuamente quindi anche da questo punto di vista Caruso è un insegnamento ecco perché auspichiamo che il libro che hai scritto come si dice possa avere una un riscontro anche dal punto di vista promozionale perché nel libro tu disamini eh questo personaggio sì come cantante ma anche una figura alla portata di tutti alla portata di degli insegnamenti che gli venivano dati in effetti Caruso ecco prima di parlare del segreto che cosa faceva Miriam per imparare a cantare vogliamo raccontare questo piccolo passaggio il il suo il suo il suo discorso vocale eh il imparare eh ovviamente ha studiato ha studiato ha studiato eh repertorio non voglio entrare nel nel suo curriculum qualsiasi persona può leggere non è importante ma quello che lui ha fatto che lui non si ha lasciato andare dicendo oh io sono sono arrivato sono arrivato sono questo sono quella fino all'ultimo momento della sua vita lui cantava gioiva di ogni risultato che raggiungeva delle cose pazzesche pazzesche lui era un uomo molto sensibile e quando si trattava della voce lui era probabilmente probabilmente devo dire come me perché non non riesco io a ascoltare o a sentire voci che che non vanno lui invece ha capito una cosa fenomenale lui ha capito che la voce dei cantori nelle sinagoge negli anni venti trenta quaranta erano una cosa diverso e spettacolare e lui doveva sapere ma che cosa c'è questa cosa che gli fa diverso è molto 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 grande eh molto grande il discorso del suo figlio e il discorso del suo segretario personale ok che dicono ma ogni momento che lui aveva libero è andato in sinagoga per ascoltare ma allora non è il cantore di oggi che io quando vado in sinagoga no cinque minuti dopo devo uscire perché non ce la faccio per questo motivo un altro motivo che vengo dove non c'è nessuno non devo ascoltare ascolto Dio prego con Dio parlo con Dio e non la mentalità mia è completamente vocale quando io sento una voce mi viene l'immagine e mi prende la la mi prende i pensieri non mi posso concentrare sulla preghiera non ho l'intenzione giusta quando io devo ascoltare un cantore ok che non ha la voce dove deve averlo l'altro libro che ho scritto che è il segreto della voce nella Kabbalah nello Zohar ok entra dentro questo soggetto ma Karuso non era ebreo ma Karuso era un'anima elevata un'anima che ha preso il dono della voce ha preso il talento di questo dono e l'ho portato al suono divino che lui ha capito che il cantore di quel tempo poteva superare qualsiasi difficoltà dal punto di vista musicale con la parola e lui ha capito questa cosa e lui con la sua intelligenza e con la sua anima elevata è arrivato a fare è arrivato a essere a questo livello perché lui era aperto a quello che la sua mente lo ha detto perché sicuramente il suo maestro non lo ha insegnato e i cantori non l'hanno detto perché loro non sapevano e io conosco la storia di tutti e non sapevano ma lui sapeva e il suo figlio ha detto papà sapeva quello che andava o non andava bene per lui quello è la sua il suo figlio che ha scritto ovviamente la biografia il suo proprio metodo di cantare divenne per lui una seconda natura come il parlare di una persona normale non era più consapevole di come lo faceva e non poteva e non poteva comunicare la sua tecnica a altri una volta proprio a insegnarlo un giovane quello era molto 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 vicino alla sua morte ma senza successo dopo alcuni mesi di sforzo senza risultati figuriamoci Carruso questo non aveva risultati con il suo allievo il suo accompagnatore Cucito gli disse Comendatore lei è un cantante non è un insegnante si limiti a cantare quando lessi queste parole piansi tutto quello che ho sempre detto sui cantanti che non sono insegnanti e su loro non essere in grado di comunicare la propria produzione vocale agli studenti veniva confermato qui non penso sia necessario ripetere quello che ho detto prima ma non voglio assolutamente cambiare idea in proposito la stessa cosa che ho scritto ovviamente faccio oggi e insegno oggi non si è cambiato niente quello che si è cambiato è che l'accompagnatore sapeva che il maestro non deve farlo e sai una cosa i maestri di allora non insegnavano tecnica insegnavano voce insegnavano lo strumento che veniva a loro insegnavano repertorio guidavano le voci che si espandono naturale per questo motivo un ragazzo di 24 anni 25 anni non va a cantare Aida una ragazza di 20 anni 21 22 non va a cantare asucena hai capito? quando oggi non c'è un discorso hai un po' di carne nella voce ti vanno a fare perché sei come un fazzoletto si usa e si butta e alla fine a nessuno interessa i tuoi problemi che vengono perché tu non sai come cantare all'inizio tutti sono belli sono grandi le voci sono favolosi Dio ha creato solo strumenti belli per ognuno di noi per ognuno di noi quello che facciamo come tutte altre cose nella vita è sempre nelle nostre mani quando uno strumento dall'inizio non va bene un bambino che ha dei problemi si deve indagare altre cose non sulla voce perché la voce è una espressione dell'anima e quando qualche cosa con la voce non va come anche nel corpo c'è sempre da guardare in altri posti nella sapienza per questo dobbiamo dobbiamo entrare nel discorso di sabato sera sì certo quando faccio la parashah della Torah ma un aspetto un aspetto che mi ha colpito imbattendomi in alcune pagine dedicata a Caruso e questo vorrei che tu me lo spiegassi Miriam quello che lui capì come trattare lo strumento e come lui separava ora arriviamo al segreto no? come separava la musicalità alle parole cioè Caruso capì pure questo e lo capì lui lui ha capito tutto ma lui ha capito questo dai cantori ok lui ha capito questo dai cantori perché ce lo spieghi Miriam perché è un aspetto che mi interessa sto cercando di intuirlo però non arrivo cioè il fatto di spostare le parole verso i denti molto 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 facile ok? molto facile elementare Watson ti ricordi Watson? ok scusa la battuta elementare dove inizia la voce? dovrebbe iniziare in testa da quello che e poi ecco la sapienza la fa aprire nello strumento nella gola aiutami dove inizia la voce? nella bocca dove inizia la voce? vedi che mi metti in crisi ti metto in crisi perché vai via da quello che sai la voce inizia nel cervello ecco nel cervello perché? perché il cervello sa tutto la gola non sa niente lo strumento non sa niente il cervello sa come si suona e allora l'ho detto comunque che iniziavi in testa non mi hai sentito ma sicuramente per questo io ti ho detto perché vai via dalla tua sapienza perché tutto altro che tu sai ha da fare con la bocca ha da fare con la mandibola ha da fare con la gola ha da fare con lo strumento essendone la gola si può anche dire ovviamente lo strumento è lì allora deve essere suonato lì quello che ha capito Caruso è che la gola è una casa spiego come un bambino ok è una casa ha dentro delle stanze in una delle stanze c'è lo strumento lo strumento dentro lo strumento non puoi suonare lo devi suonare fuori e allora devi trovare il posto dove dove suoni il pianoforte non lo suoni dentro il pianoforte lo suoni fuori non suoni dentro il violino lo suoni fuori ma senza il dentro il fuori non esiste e senza che tu sai fuori che cosa fare allora il dentro non ti va a fare niente quello vuol dire che se il cervello non sa la musica le parole il movimento dello strumento da dentro vuol dire il cervello della sapienza lo strumento dentro la camera non può reagire così ma c'è un altro modo io vado nella camera e io inizio a muoverlo come voglio io allora tutto sta nella gola e tutto viene spinto e dopo viene il petto e dopo viene le costole mi fa male solo solo a fare l'esempio solo a fare l'esempio agli miei allievi mi fa male e allora il problema oggi è che noi lavoriamo dentro lo strumento e lo strumento si rompe si rompe e allora il dottore prende l'esempio il bisturi il bisturi e fa un'operazione ai polipi ai noduli ai riflusso che ti fa male nelle corde vocali le cose che ho sentito io non ti posso dire non devi parlare non devi cantare per due mesi il nostro il nostro Kaufmann aveva un aveva un aveva una emotoma sulle corde vocale e allora per due mesi tre mesi non parlava certamente l'emotoma è andata via dopo si è fatto che cosa non lo so ma non non importa se si è operato non importa importante è che dove sta la sua voce adesso è dentro la camera ed è guidato da quello che è lo strumento per questo motivo lui va giù 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 finché come domingo da finto tenore perché lui era un finto tenore non era mai un tenore è diventato un baritono perché quello era giusto per lui dall'inizio ma lui aveva già 65 una cosa del genere quando lui ha deciso di diventare un finalmente il baritono perché le note alte non andavano allora beh invece di lasciare perdere è diventato e oggi è quello che è lasciamo perdere ma la voce deve crescere Caruso ha capito che la voce deve crescere ma lui come Gili come Birling Birling lasciamo per un'altra un'altra volta ma Gili potevano cantare qualsiasi repertorio senza cambiare la posizione della voce quello vuol dire che con la voce che aveva non cambiando perché la tessitura si è cambiato lui cantava tutto tutto come cantava le si è d'amore che è l'epertorio lirico leggero a Ida che è spinto ma non ha mai cambiato la posizione della voce ma la voce stessa essendo un discorso muscolare e non nella gola perché non nella gola diventa più forte diventa più grande diventa più spazioso perché nasce nella posizione ideale nasce nella mente giusto nasce e ha lo spazio un infinito infinito all'aria infinita perché non è mai un discorso di prendere il famoso fiato il famoso fiato ok invece nella mente un momento che tu non hai fiato cia cia bambino non ci sei e allora quelli che vogliono fare un argomento con me da dove viene l'aria e perché i miei cantanti non fanno questo e tu non senti un staccare della linea ma la linea è perfetta se tu ascolti caruso in registrazioni di anni trenta ok dove non c'era niente non c'era il microfono no tu non senti pure l'esempio ti dà fastidio hai capito? non lo senti va e ha delle frasseggi lunghissime e può smorzare può assolutamente può fare tutto perché l'aria c'è e lui sa come usarla e quando tu sai tu sai ti diventa tutto semplice e la voce va però Miriam ecco ora l'ultima parte della trasmissione dobbiamo dedicarla al segreto perché dobbiamo arrivare a svelare questo segreto la bocca che poteva tenere un uovo senza romperlo le parole partiamo da queste le parole della moglie Dorothy Benjamin di Caruso e allora come inizio questo questo discorso posso iniziartelo io per favore il segreto del più grande cantante mai esistito finalmente svelato per coloro che hanno familiarità con l'opera il tenore Enrico Caruso era e sarà sempre il più grande cantante di tutti i tempi nessuno escluso per coloro che non lo conoscono leggete e ascoltate alcune sue registrazioni su internet ne vale la pena le sue registrazioni sono fatte con un garmofono immaginatevi cosa sarebbe stato se avesse avuto a disposizione la tecnologia di registrazione dei nostri giorni Caruso la bocca che poteva tenere un uomo un uovo senza romperlo questo è forse uno dei segreti più nascosti della voce leggo st'ultima parte e poi entri tu Miriam circa 25 anni fa questa è Miriam che parla ho acquistato una serie completa delle registrazioni di Caruso composta da 78 dischi la rivista che accompagnava i dischi era stata pubblicata dal Metropolotan Opera nel 1975 e lì ritrovai l'articolo Caruso la bocca che poteva tenere un uovo senza romperlo avevo sentito le registrazioni centinaia di volte non c'è voce che competa con quella di Caruso che brillantezza tecnica timbro e bellezza nessuna la sua voce quello che ha ottenuto tramite essa era e rimane straordinario in modo unico e affascinante non appare la parte della rivista che accompagnava le registrazioni era ovviamente sempre sempre lì semplicemente non avevo mai trovato il tempo di leggerla finché un giorno non la sfogliai e tutto quello che avevo sempre pensato sulla voce negli ultimi trent'anni fu convalidato scagionato e chiarito il perché nessuno lo sappia lo insegni o lo esamini mi rimane un mistero ma per me e per i miei allievi questo è uno dei più grandi segreti di tutti i tempi per liberare la voce poi qua parla del capitolo successivo e a un certo punto si dice parli tu quanto iniziai a insegnare con l'uovo nel 1996 o 1997 non ricordo bene il fausto giorno non avevo certamente idea del fatto che Caruso utilizzasse l'uovo quindi tu stai parlando di un'esperienza che tu l'hai vissuta da te non sapevi quello che Caruso aveva aveva già messo in atto io avevo una un'allieva che aveva una malattia un un problema mettiamolo così di una lingua che si ritira ritrattare e allora quando lei iniziava a lavorare io ho lavorato sempre con con il cucchiaino quando lei prendeva il cucchiaino e lo mettevo nella bocca per sostenere l'apertura della gola del palato alto allora la 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 lingua veniva indietro e chiudeva come come ovviamente il muscolo che si ritira e chiude e noi abbiamo tentato con lei ma tutto e alla fine e mi ricordo il giorno come come questo momento ero seduto in Florida nel mio pianoforte e ho detto senti io non so che cosa fare io non ho non non ti posso aiutare perché nel momento che la lingua ti chiude e nel momento che la gola non può stare aperto e non hai il flusso e la libertà dell'aria e allora io non so che cosa fare ovviamente qualcuno altro avrà detto allora si muove nella nel posto nella gola ma sia che io questo non lo faccio e allora ho detto io non lo so e lei inizia a piangere e anche io mi sento malissimo perché sono pochi gli allievi nella mia vita grazie a Dio che non ho potuto aiutare o ho mandato via per qualsiasi motivo e ho dentro di me iniziato a pregare e ho detto Dio benedetto per favore aiutami aiutami di aiutarla perché io non lo so che cosa da fare e lo giuro e lo giuro sulla mia vita ok in un attimo era come la mia testa si aprisse mi sono alzata e sono andata nella direzione della cucina la mia allieva la mia allieva la mia allieva diceva a me e io non ho non ho fatto uscire una parola lei ha detto a me ma tu non vai mettere un uovo dentro la mia bocca quello che era arrivato a me Giuseppe era talmente forte che si è trasferito dentro la sua testa io ero in shock completo io ho detto sì ed è quello che noi facciamo immediatamente no io non posso bla 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 5 minuti 5 minuti 5 minuti non posso non posso non posso l'uovo è rimasto dentro la lingua si è abbassata con le altre cose che facciamo il vocale il suono si è alzato e tutto quello che non potevamo fare prima è uscito ma con una facilità enorme una verità totale la voce cambiata in 5 minuti se tu non sai se tu non sai se tu non sai quello che io dico allora tu dici che idiozzia io non metto mai un uovo nella mia bocca conoscendo un po' l'essere umano noi abbiamo iniziato con lei con un uovo vero e quello era ovviamente non è successo niente ma perché la sua intenzione la sua concentrazione era per non chiudere i denti sopra il uovo perché altrimenti hai un problema dopo con il tempo ho iniziato a bollire l'uovo dopo abbiamo preso la buccia fuori e abbiamo mangiato l'uovo e dopo era più conveniente è giusto e dopo ho deciso ci vuole anche ci vuole anche non solo la struttura dell'uovo che è esattamente quello che entra nella bocca ma ci vuole anche il peso per i muscoli per fare il training delle muscoli della lingua abbiamo 17 muscoli nella lingua nel caso della mia allieva tutti questi si ritiravano ok ma una volta che la lingua rimane nel suo letto è l'apertura della gola totale è naturale è totale allora che cosa succede? si apre una immensità una immensità una immensità di aria una immensità di spazio in un posto dove tu hai assolutamente tutti i componenti che hai bisogno per crescere lo strumento senza toccarlo allora Caruso ha capito questo ma tu non sapevi però che Caruso ribadiamo questo concetto perché è fondamentale non sapevo niente non sapevo niente quando ho letto questa cosa io ho pianto come 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 non lo so perché anni che stavo lavorando questa cosa e non non avevo non avevo in mano ti sentivi impotente praticamente ti sentivi impotente completamente impotente perché i miei allievi lo sapevano ma gli altri come oggi non sapevano non vogliono sapere nemmeno non lo fanno non hanno la minima idea se tu fai solo l'uovo e non sai le altre cose l'uovo ti fa male l'uovo ti fa male perché tu metti i suoni indietro dell'uovo e spingi fuori il suono e chiudi la gola chiudi l'uovo chiudi la gola ti fai male è impressionante questa cosa è impressionante proprio cioè capire la tecnica di questa di questa operazione impressionante e affascinante nello stesso tempo perché ti risolvi il problema perché la cosa è facile la cosa è facile è facile la cosa è facile devi sapere come utilizzare tutti i componenti certo ok non è solo l'uovo e non è solo questo quello e l'altro ma caruso ha capito che il discorso della gola aperta che la gola non è la forza che lo strumento deve lavorare tranquillamente che lo strumento deve arrivare a un a uno stato per funzionare perfettamente e quando lui ha sentito i cantori e le note che facevano il tempo un cantore per esempio durante Yom Kippur deve essere sulla bima sul podio ok per le preghiere per 12 ore e cantare per 12 ore uno dei miei allievi un paio di mesi fa ha cantato una una serva padrona in israele a un lui e lui è della svizzera e il maestro è venuto a lui e ha detto ma ma come è possibile che tu canti tutta la giornata durante le le prove mentre gli altri stanno marcando dopo cinque minuti e non hanno voce e poi l'ho detto ma io parlo tutta la giornata allora quando posso parlare tutta la giornata posso anche cantare lui rimane hai capito tutti amano amano che non hanno la minima idea di dove viene la sua voce ma lo amano hai capito la naturalezza espressa nella voce è come la naturalezza della vita certo certo in sintesi praticamente no cioè quello che Caruso aveva raggiunto nella sua evoluzione quindi questa frenesia di ma frenesia di di imparare quindi di mettersi andava dei cantori poi arrivava a casa e si allenava continuamente lo ha portato a vivere questa esperienza come naturalezza come se fosse ecco come se parlasse il suo il suo figlio parla del discorso che non poteva spiegare perché faceva così tanto parte di se stesso ma non ha mai parlato dell'uovo non ha mai detto a nessuno non è scritto da nessuna parte quindi se non l'avesse detto la moglie non si sarebbe scoperto giusto questo articolo è stato scritto sì in in 70 73 lui lui era morto la 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 Dorothy ha dato un'intervista a questa a questa giornalista sì ma ovviamente era una cosa che lui praticava sempre perché altrimenti lei non avrà menzionato questa cosa lui non usciva con questa cosa ma ovviamente lei l'ho visto tante volte praticare con quello altrimenti perché non l'avrebbe detto non l'avrebbe certo di no certo di no allora è stato anche per te scusa Miriam è stato anche per te una una come dire una rivelazione certo ma certo era una rivelazione che mi mi è venuto dal cielo mi è venuto dal cielo perché non era una cosa che io sapevo prima è una cosa che è venuto in un momento di grandissimo bisogno in un momento di voler aiutare un altro essere umano certo e tra le altre cose hai capito nello stesso momento che tu hai capito senza dirlo certo senti Miriam scusami una cosa come che Caruso è arrivato all'uovo questa è una cosa che io leggendo nelle righe mi chiedevo no sono una persona normale lui vabbè ascoltava i cantori quindi doveva raggiungere lui ha usato una narancia un'arancia sì certo ne parla ok ma l'arancia è rotondo la bocca dentro può anche sembrare un tetto gotico ma giusto ma è quello è è la voce di e la rotondezza di che il dottor benjamin ha parlato di questo si deve guardare si deve capire queste cose ok il dentro della voce e dentro della gola è lungo è lungo la bocca è rotondo ma non è rotondo sì 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 è ovale diciamo più ovale e allora una persona con un minimo di intelligenza cerca una cosa che è così è questa cosa naturale è l'uovo e allora dopo ce n'è un altro discorso e quello è un discorso spirituale perché l'uovo è connesso ovviamente alla nascita all'essere umano e allora una persona come se facesse parte come se facesse parte quando tu hai una persona che va oltre e che cerca una persona che vuole veramente capire non è solo il leggere la parola ma capire svilupparla 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 logicamente pensare alle cose più fini e più raffinati nella tua testa tu ci arrivi senz'altro ok non è un discorso di un genio che arriva a questa cosa ma è una persona che arriva perché il bisogno del corpo il bisogno della mente il bisogno dello spirito lo porta a indagare oltre 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 ma praticamente era quello che è successo a me quando dopo la prima la prima operazione dopo la seconda hai capito che non sapevo non potevo non nessuno mi dava niente che può ricostruire la mia voce per nessun motivo sei mesi con un pezzo di carta bene Miriam bene 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 è una puntata che crea una sorta di spartiacqua da questo momento in poi quindi si entra ecco proprio le tue ultime parole fanno 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 scuola cioè quando una persona vuole arricchirsi perché sente un bisogno fisico e spirituale quindi penso che con queste parole si può chiudere la puntata no perché da qui con l'esempio di Caruso che noi andiamo a intraprendere no quella credenza di credere in se stessi e quindi di abbinare un bisogno così importante c'è quello di voler cantare di voler far uscire la voce in un certo modo all'anima allo spirito e quello tu puoi anche prendere per parlare perché ci sono tante persone che soffrono moltissimo ogni giorno solo di parlare solo per poter parlare siamo qui per dare questi questi messaggi quindi non ci stiamo mai siamo gli unici forse gli unici ma sicuramente gli unici avremo modo di di capire chi ha voglia di entrare in questo filone Miriam è stata una puntata settimana prossima settimana prossima settimana prossima continueremo con una bella sorpresa che non svegliamo qui lo diremo dopo lo diremo successivamente si tratta di testimonianze molto importanti quindi facciamo rimanere nell'immaginario quello che sarà la puntata successiva Miriam una buona serata ti raccomando un buon riposo perché devo dirti una cosa quando parli poi all'inizio eri un po stanga poi ti sei rivitalizzata perché già parlare di certi argomenti ti crea energia e la e la come dire questa questa sete e quindi parlarne ti disseti perché ti migliori Miriam da esero italia notizie e d'antenna abruzia a te e a tutte le persone che ci hanno visti e ci vedranno successivamente un arrivederci a presto grazie buonasera buonasera ciao a tutti ciao grazie a tutti grazie a tutti